Dal Dipartimento di Prevenzione di Salerno arriva il report settimanale sui dati epidemiologici sul territorio provinciale dell'emergenza coronavirus. Nel report di martedì 19 gennaio si registra la salita a 23.234 attuali positivi, più 800 in sette giorni, con 30.331 casi dall'inizio della pandemia. Crescono ancora nel trend generale della regione Campania le guarigioni con un passaggio a 6.672 negativizzati, più 548 in una settimana. Per quanto riguarda i decessi, il totale delle vittime del covid-19 è di 425, 25 in più nell'arco di sette giorni.